Siamo qui davanti a un pino al tramonto. Van Gogh l'ha dipinto quando era nel ospedale psichiatrico di Saint-Noémy. Il quadro è una potenza notevole ed è anche uno dei quadri di misure più grandi di Van Gogh. Il pino è un pino marittimo che ha dei rami rotti. Rami rotti perché lui stesso racconta in una lettera che era spazzato dal mistrale. E' forse uno dei pochi quadri dove si vedono dei fiocchi di neve. Sui campi e su certi rami ci sono queste tracce di neve. Ed è una cosa che fa parte di un clima emotivo e di un clima figurativo nell'ultima fase proprio della sua vita.